Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene ragazzi, come ogni settimana, come ogni inizio di settimana, siamo qui a Playa Blanca per il classico aggiornamento settimanale. E mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per non perdere nessuno dei nostri video. E ricordatevi di aiutarci condividendo i nostri contenuti ad arrivare il primo possibile ai 1000 iscritti in modo da poter fare l'estrazione del primo. che metteremo in paglia nel 2021 di una settimana, qui a Lanzarote per due persone. Bene detto questo, io sono pronto a partire ma, come sempre, prima la nostra. Sigla! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.